In giornate come queste dove torni a casa stanco, o meglio, mentre eri al lavoro e ti autorizzatevi in testa e appena tornare a casa ti buttavi nel letto a dormire, e non hai voglia quindi di fare esercizio, di allenarti, niente sono proprio quei giorni in cui devi spingere di più, cazzo, perché dici oggi non c'è voglia, salto gli allenamenti e facci domani ma poi domani sarai stanco uguale perché non hai la preparazione del giorno prima, quindi anche domani rimanderai è proprio in quei giorni in cui vuoi rimandare che devi spingere di più, che devi proprio spingere il corpo al massimo, cazzo e lì sì che vedi dei risultati, cioè